Sì, sì, io ho sentito un po' di pazienza, cari, sono tutti bravi, è un po' di pazienza, non venire a dare sentire l'occasione a tutti, eh, se no venire a l'orecchia, è un po' di pazienza, cari, perché sto mettendoci ancora. Allora, qui devi dire, quando è giovane, l'archedetto Andrea Ricci, che lavora all'Infra, e l'ho conosciuto all'Università Popolare. Grazie a tutti per l'invito di questa sera, e sono un attimo di junio, in realtà sto facendo, sto condusendo una tesi sull'Infra, una tesi magistrale, sul giardino, una tesi legata allo studio dei monumenti e alle rivivole degli altri, che conto a rilevare un momento, che dentro lo stadio di me, e un conto a rilevare l'appelatore, che c'è un studio a parte, ha detto, grazie. E niente, è solo qui perché ho accettato l'invito di Angela, e ho preso come spunto il tema, cioè, la farfalla che è, perché ecco, siamo maggiori e un simbolo. E che fa fatto? No, io non mi dicevo che... Perché, vabbè, c'è uno che li ha lasciati. No, ma dicevo che... Dicevo che la farfalla è, diciamo, l'erimento della primavera, diciamo, è un simbolo del... E quindi, ho preso una poesia mia, che si chiama Farfalla Azzurra, e la volevo condividere con voi. Piccola, azzurra, alleggia una farfalla, il vento la agita, un guido di madre per la gentilla, Tremola, intrapassa, così non posso fare il Dio di un momento, così non fugage a ritare. Vidi la felicità, farmi un cielo, scintilare, timorare, intrapassare. Questa è legata alla farfalla, però per lo legare in simbiosi anche... Questa è che sembra nelle persone, insomma, legarla anche con una poesia di D'Aggio e di Alta Merini, che lega la farfalla alla persona, insomma, alla donna, e inizia così. O donne, poveri persone, violentate da chi non vi conosce, donne che avete mani sull'infanzia e su tanti segreti d'amore, tenete conto che la vostra pluralità naturale non sarà mai saziata, mangerete polvere, cercherete di impazzire e non ci riuscirete, aprite sempre il filo della ragione. Chi vi taglierebbe due, ma da queste profonde ferite, uscirà a farfalle in un terreno. Grazie. Grazie Su un'antusiasla di giocare in questi eventi culturali mi piace molto, e ho accettato subito con il libro di Valeria di Angela Maria, e... che dire... per me è un po' tutto nuovo, perché uscendo da quel fondo dell'università, che magari ti indirizzo, è molto bello a di cosa che c'è dopo, ecco, costruire e già partecipare a eventi culturali come questo per me è un'apertura di menti confrontarmi con molte persone e con molti esperti artisti come voi vi grazie moltissimo